Giuseppe Castagna, ministro etologato di Banco BPM, benvenuto a questo faccia a faccia con le fonti TV. Buongiorno, grazie a voi. Eccoci, allora parliamo dell'economia mondiale, è un momento di rallentamento a livello globale, America e Cina, guerra dei dazi, problemi in generale, come la vede? Ma insomma io dovrei, anche per un discorso della parte che più mi riguarda come Banco BPM, sono un po' più preoccupato dell'Europa che non del resto del mondo. Noi prevediamo che quest'anno comunque su scala globale l'economia si mantenga a un livello abbastanza sostenuto, però certo queste schermaglie tra Stati Uniti e Cina potrebbero vedere come terzo incomodo, insomma particolarmente penalizzata l'Europa e l'Italia essendo un paese esportatore evidentemente può averne delle conseguenze negative. Ecco, parliamo quindi della BCE, Mario Draghi lascerà fino a ottobre, cominciamo con Draghi, qual è il suo giudizio complessivo su Mario Draghi? Beh, voglio dire, al di là del mio giudizio, direi che è ampiamente riconosciuto che in un periodo così difficile come quelli che sono stati i suoi anni di governatorato della BCE, è stata una figura indispensabile per tenere in piedi le sorti dell'Europa, quindi direi che è un giudizio assolutamente positivo. Recentemente Mario Draghi ha detto quando sei in una stanza buia bisogna fare piccoli passi, così ha detto in inglese, io traduco in italiano, è cauto, però ha segnalato, ha indicato con un forward guidance che i tassi interessi rimarranno come sono per tutto il 2019 e che riuserà quest'anno il tiltro. Commenti su questi due fatti? Ma diciamo commenti positivi e negativi, nel senso come effetti evidentemente più che per la dichiarazione. Gli effetti sono che questa decisione di ampiamente annunciare con anticipo il ricorso al TLTRO ha fatto preoccupare un po' tutti gli analisti, perché significa che evidentemente un pericolo di mancanza di crescita a livello globale è evidentemente molto chiaro. Dall'altra parte, per quanto riguarda le banche, per esempio è una notizia che invece abbiamo accolto con favore, perché è evidente che una scadenza così importante, soprattutto per le banche italiane, che avevano fatto parecchio ricorso al TLTRO tutto in una volta, sarebbe stato un po' penalizzante sui mercati. Il Banco BPM ha circa 20 miliardi di tiltro, quindi potrebbe essere aumentato questo? No, direi di no, anzi molto probabilmente sarà diminuito, 21 miliardi dobbiamo metterlo anche nel contesto sia dello scenario di qualche anno fa, in cui effettivamente c'era scarso ricorso al mercato dei capitali, perché insomma lo spread era particolarmente alto, e sia anche un po' alla fusione, che ha visto la nostra banca, unica banca in Europa, fare una fusione così importante, e quindi chiaramente abbiamo cercato di approfittare di condizioni particolarmente favorevoli che erano l'offerta del TLTRO con un vantaggio di 40 punti in base. Ma il vero punto è che annunciando queste iniziative Draghi ha più o meno ammesso, un po' come il Presidente della Fed l'altro giorno quando RIA ha anche detto non alziamo i tassi in giro in America, che il rallentamento colpisce tutti e che per l'Europa, abbiamo visto le cifre, Germania ha un crollo in termini di crescita PIL, Italia ha zero crescita o meno, come la vede quest'anno per la macroeconomia europea? No, appunto l'Europa direi che è il vero malato dell'economia globale, nel senso che i sintomi ce li abbiamo già da qualche anno, direi che non tutti hanno voluto vederli in anticipo, o li hanno visti, ma cercando di curarli con ricette molto differenti. Questa austerità che oggettivamente ha caratterizzato non la politica monetaria, ma la politica economica del Parlamento europeo, della Commissione europea, del governo dell'Europa, oggettivamente non ha facilitato una ripresa di tutti i paesi. Questo l'abbiamo pagato in Italia, l'abbiamo pagato nei paesi periferici del sud, però oggettivamente sta pesando su tutti i paesi europei principali. Se guardiamo la situazione che c'è in Francia, in Germania, in Spagna, sono tutte situazioni con una forte instabilità che non aiutano in un momento in cui bisogna difendersi da quelle che sono situazioni macroeconomiche mondiali molto complesse. Quindi Castagna, d'accordo con Juncker, che l'altro giorno ha parlato con ramarico degli anni di austerity, era un errore o era necessario? Come lo vede? Beh, io sinceramente l'ho trovata eccessiva, l'ho trovata un po' sopra le righe, quasi che fosse una dichiarazione politica, piuttosto che una scelta condivisa per far crescere l'Europa tutta insieme. La verità è che purtroppo abbiamo un'Europa che ancora si basa molto su quelli che sono gli schieramenti più rilevanti da un punto di vista economico e quindi a volte un po' miopemente si percorre la strada più facile invece che quella che può essere più inclusiva. Ma questo non vuol dire che dobbiamo odiare la Germania? No, assolutamente no, a parte Juncker nemmeno è tedesco, quindi poverino, non dobbiamo odiare né lui né la Germania, ma dico solo che l'Europa è un po' un'incompiuta, ci abbiamo messo un po' di anni per accorgercene, fortunatamente, anche se questo capita in un momento non favorevole, ora mi pare che la consapevolezza sia un po' più alta. Arriviamo alla situazione in Italia. In questi giorni un membro della vigilanza della Banca Centrale Europea, che tra l'altro è un italiano, ha parlato di una recessione che come cause ha gli aspetti auto-inflitti. Ecco cosa ha detto. D'accordo con questa analisi? Diciamo che vista dal panorama della BCE, perché insomma l'ha detto un autorevole membro della BCE, evidentemente questa necessità che c'è stata in Italia da parte del nuovo governo di trascurare quelle che erano le indicazioni molto forti sulla spesa, sul fisco, sulla riduzione del debito, oggettivamente possono sembrare delle azioni che siano non necessarie, quindi se l'auto inflitta significa quello, si poteva forse anche lì, attraverso un dialogo più costruttivo, perdere meno tempo per trovare una soluzione, che poi è stata trovata, ma diciamo nel momento in cui era già superata, perché oggi purtroppo i livelli di crescita non sono più quelli dell'accordo fatto con l'Europa. Io l'altro giorno ho intervistato Evald Novotti, governatore della Banca di Austria, non che è membro del Consiglio Direttivo della BCE, e lui era molto più esplicito, ha detto per me disfare la riforma di pensione, Fornero, disfare il Jobs Act, disfare la flessibilità mettendo questo decreto di dignità, che rende meno flessibile il rinnovo per tempo determinato, queste contro-riforme fanno male all'economia italiana, quindi lei sarebbe d'accordo con questo giudizio. No, ma io trovo che chiaramente le riforme in generale fanno bene, il problema è se te le puoi permettere o meno, quindi il giudizio lo metterei più, erano opportuni o meno in un momento in cui il Paese doveva dare un segnale molto forte circa la sua intenzione di avere una forte riduzione del debito, di far riprendere l'economia attraverso una politica più incentrata, forse sui tagli fiscali piuttosto che sul resto. È ovvio che poi ciascun governo ha un suo indirizzo e quindi questo governo ha ritenuto che fosse invece più utile per una possibile ripresa agire sui consumi. Insomma, sono delle scelte differenti, bisogna sempre fare i conti con quello che si ha come propria disponibilità. Però, visto che due minuti fa lei ha detto che l'austerità era eccessiva in questi ultimi 5-10 anni, la riforma delle pensioni e il Jobs Act per lei erano mosse giusti o sbagliati? No, erano mosse giuste soprattutto perché guardavano ai più trascurati della nostra epoca, cioè ai giovani e alle generazioni future. Quindi è ovvio che chi ha avuto molto, come insomma, chi ha ormai la mia età, evidentemente deve pensare anche non solo a chi gli pagherà le pensioni, ma anche a come saranno pagate, semmai avranno una pensione i ragazzi che oggi cominciano a lavorare. E lo stesso discorso si può dire per il Jobs Act, era una prospettiva abbastanza coraggiosa, direi, di far capire che c'era un mondo di lavoro in grande cambiamento, una società in grande cambiamento, che forse oltretutto interessa più chi la pensa a vecchio che non i giovani realmente, perché i giovani sono preparati ormai ad avere delle forme di lavoro molto differenti rispetto a quelle che avevamo noi. Però, visto che siamo in una recessione in questo momento in Italia, e visto che due delle politiche del nuovo governo sono abbastanza discusse a livello europeo, parliamone. Il reddito di cittadinanza è una misura che secondo lei può creare nuovi posti di lavoro o è più una miscela di assistenze sociali per i poveri da un lato, più sussidi di disoccupazione aggiunti in modo confusionario? Parole mie. Ma sicuramente, insomma, definirlo reddito forse non è il termine giusto, perché oggettivamente è un sussidio e come tutti i sussidi dovrebbero essere indirizzati a quelle categorie che per un determinato periodo di tempo sono in difficoltà temporanea in cerca di lavoro, in cerca di occupazione. Quindi oggettivamente, ecco, forse la visione un po' inclusiva che possa diventare un reddito sostitutivo di un reddito effettivo da lavoro, che forse mortifica un po' anche chi invece questo lavoro dovrebbe metterlo a disposizione. Poi che questo possa essere anche in qualche modo un contributo per far aumentare i consumi, per riuscire a dare delle indicazioni di ottimismo che servono anche, perché oggettivamente io penso che quello che oggi, lei prima parlava di recessione, oggi la vera recessione è la recessione della fiducia, quindi riuscire a riportare tanto chi appunto ha in questo momento un bisogno di avere un reddito, tanto le imprese, gli imprenditori a riavere fiducia è una delle questioni centrali forse del nostro paese. Però è presentato da leader politici, alcuni in Italia, come una voluta ridistribuzione del patrimonio. Parlano così. Lasciamo stare, il vero punto non è come i politici lo chiamano, è l'effetto sulla macroeconomia e i consumi che sono deboli in Italia. Secondo lei, se per aiutare i poveri ci fosse stato un raddoppiare o triplicare del reddito di inclusione per veramente chi è sotto la soglia di povertà e gli altri miliardi andavano a continuare la politica di scravi fiscali per le nuove assunzioni per donne, giovani e esudati, sarebbe una politica più efficace? Ma sicuramente per chi la pensa come me, evidentemente questa è una politica più efficace. è ovvio che c'è un governo che in qualche modo è stato scelto e ha ritenuto che la politica più efficace fosse l'altra. È ovvio che se invece pensi più a lungo termine, un discorso in cui incentivi l'occupazione attraverso agevolazioni per chi questa occupazione deve fornirla nel lungo periodo, è sicuramente una mossa più di lunga portata. Mentre la quota 100 ci dicono che questa quota 100 per ogni persona che va in pensione si creerà automaticamente un nuovo posto lavoro o addirittura due o tre per i giovani. Questo è sempre stato un po' un discorso valido anche quando ci fu la Fornero, che si pensava che l'allungamento dell'età pensionabile non avrebbe prodotto nuova occupazione. In effetti le due politiche devono andare molto in sintonia, quella sull'incentivazione dei nuovi posti di lavoro e l'allungamento della pensione. Una risponde a un'esigenza di equilibrio chiaramente dei conti e di patto generazionale, quella della riforma delle pensioni e l'altra invece è un discorso di occupazione. Non è facilissimo trovare un equilibrio. Se un effetto della quota 100 fosse nuova occupazione avrebbe comunque un effetto positivo. non ne sono così sicuro. Domanda interna debole. Quale sarebbe la soluzione per creare più domanda interna in questa economia di recessione? Sicuramente il tema del stimolo dei consumi, ma come dicevo prima, di una situazione di stabilità e di fiducia maggiore sarebbe indispensabile. Io guardi quando spesso si paragonia questa crisi che abbiamo vissuto soprattutto l'anno scorso con l'incremento dello spread a quella del 2011. Dico sempre che non ci sono due cose più differenti. Nel 2011 avevamo un problema di debito sovrano, un problema di banche in grande crisi, anche se purtroppo in quel periodo non si ammise che le banche erano in crisi, ma tutto il resto l'Europa lo fece, è un problema di aziende in crisi perché venivano da finanza facile per tutto il primo decennio degli anni 2000. Oggi, dopo otto anni, tutte le aziende hanno fatto una grande cura rimagrante e oggi sono in un'ottima situazione di salute, quindi sarebbero pronti a ricominciare a investire. Però gli manca quella fiducia, quella tranquillità che una situazione di crescita globale, crescita dell'Europa e crescita del Paese potrebbe invece condizionare la loro decisione. Per quanto riguarda le banche, le banche hanno tutte fatto una grande ristrutturazione, le banche oggi sono veramente in una forma molto migliore rispetto al 2011 e anche, voglio dire, il nostro Paese oggettivamente, proprio per queste due altre componenti, oggi avrebbe la possibilità di riprendere a crescere. C'è soltanto un discorso, ripeto, di instabilità, perché anche oggi si parla che succederà alle prossime elezioni europee, cosa succederà dopo, il governo tiene, eccetera. Tutto questo ha un'aiuto alla fiducia. Quindi il classico di instabilità politica e incertezza politica che rallenta la fiducia dei investitori ed imprenditori. Insomma, se i governi sono fatti per durare cinque anni, oggettivamente non dovrebbe non si dovrebbe avere sempre come orizzonte temporale i prossimi tre mesi. Cioè la campagna permanente che sembra, in America, anche in Italia, in tutto l'Occidente sembra che la... In tutto, anche in Europa, devo dire, non è un tema solo italiano. Sì, c'è il dopo Merkel, c'è il dopo Macron e sembra una campagna permanente. Però, in fondo, il problema più pesante per l'Italia è il debito pubblico o no? No, io penso che sì. È un problema sia da un punto di vista così formale, di apparenza. Oggettivamente l'Italia ha dimostrato di essere in grado di gestire un debito pubblico importante, aiutata le politiche monetarie della BCE. Prima parlavamo di Draghi, perché abbiamo avuto tassi bassi e un debito alto. Ci aiuta molto il risparmio degli italiani, che è l'asset vero che abbiamo in questo Paese, però è evidente che bisogna dare dei segnali di convergenza. Cioè, se si è aderito a un patto europeo, a un patto di stabilità, bisogna in qualche modo rispettarlo. Io sono anche convinto, e lo dico anche per l'esperienza fatta nella nostra azienda, che poi l'importante è dare dei segnali di miglioramento. Non è che devi passare dal 130 al 100 facendo una cura dimagrante che ti rende nemici tutti... E' la tendenza. E' la tendenza, e la serietà della tendenza. Quindi dare dei segnali di volontà di miglioramento, anche negoziando quelle che poi possono essere le misure che magari non potresti fare normalmente, ma che ritieni politicamente valide, però vanno accompagnate a una tendenziale buona volontà e serietà nell'attuare quelle che sono riforme già con... E questo come un augurio è nobile, ma qui su pianeta Terra, nella realtà di ogni giorno, la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario, l'Ocse, la Commissione Europea, l'Ufficio Parlamentare del Bilancio, tutti gli economisti del mondo, probabilmente il capo economista anche del Banco BPM, dicono e scrivono che quest'anno, con la politica economica attuale, è probabile che il debito pubblico aumenterà, sarà più grande a fine anno, la crescita sarà fra zero e segno meno e quindi il deficit sarà alle stelle. Non capisco come si può generare fiducia in un clima in cui i segnali vanno nella direzione contraria. Infatti quello che le dicevo che c'è oggi il gap più grande è il gap di fiducia. Oggi, ripeto, avremmo un paese in cui le aziende sono pronte a fare la loro parte, le banche possono supportarle, ma manca quella spinta, quel declic che significa fiducia, che purtroppo è condizionata, è una situazione considerata ancora di forte instabilità. Ma se uno come Carlo Cottarelli dice c'è un po' di questo problema della recessione e la mancanza di fiducia in Italia che deriva dal ralentimento internazionale, c'è un po' che deriva, come dice la Becce, a un problema autoinflitto. Lei come lo vede? Un po' un po'? No, vedo che quando ci misuriamo a armi pari con tutte le altre economie l'Italia è sempre andata molto meglio e ha sempre dimostrato di potercela fare. È chiaro che se poi in una situazione di rallentamento invece hai anche qualche autoinflizione diventa più difficile. Parliamo delle banche. Il problema più grande nel 2011, ma anche recentemente, è stato le sofferenze, le non-performing loans. Questa banca ha ridotto, non ho visto le cifre precisi, 18-19 miliardi di NPO l'anno scorso? A dire la verità negli ultimi due anni abbiamo ridotto di 21 miliardi, poi ovviamente entrano anche le sofferenze nuove, quindi il saldo algebrico è 18, però abbiamo fatto riduzioni per 21 miliardi. Scusa, da a? Dal inizio del 2017. Sì, ma 21 che adesso... Da 31 a 10. Quindi siete... Siamo in una situazione oggi di normalità, possiamo far meglio, come tutto il sistema deve far meglio, però di nuovo eccedere con l'austerità, quando si è dimostrato di poter fare un passo così grande in soli due anni non serve a nessuno. Ma NPL per questo gruppo adesso sono meno di 5% o...? No, no, sono ancora... beh, quelli netti sì, quelli lordi, no, sono ancora intorno al L'ordi sono 10%, che corrisponderebbe a livello nazionale di quel cifre di 100 miliardi lordo che è dimezzato negli ultimi due anni per il sistema bancario. Nel sistema bancario è dimezzato, nel nostro caso addirittura si è ridotto i due terzi. Dobbiamo aspettare ancora consolidamento? Questa banca è il simbolo del consolidamento, avete messo insieme quanti banche negli ultimi anni? Beh, insomma, attraverso le varie acquisizioni oltre 10 banche. 10 banche. E quindi siete il numero 3 adesso sul mercato. Cos'è? 2.000 filiali? 1.800 filiali? No, siamo partiti addirittura con 2.500, ora siamo arrivati a 1.800, noi abbiamo già in due anni chiuso a 700, perché ormai questo è l'altro problema, la rete fisica da affrontare per comprare il sistema bancario, 22.000 dipendenti, 4 milioni di clienti, insomma siamo una banca che deve darsi chiaramente degli obiettivi e delle ambizioni che siano più di carattere nazionale che non locale, come era fino a qualche anno fa. Ma secondo lei la spalla di Damocle sopra i test italiani delle sofferenze NPL adesso è meno minacciosa o è ancora un problema da risolvere per il sistema? No, io penso che in questo momento chiaramente non è più un problema, potrebbe diventare un problema se effettivamente la recessione dovesse iniziare a colpire di nuovo il paese e quindi dovessimo avere altri anni di difficoltà, ma ripeto, le condizioni di partenza rispetto a 10 anni fa sono molto differenti. Non voglio però eludere la domanda sul consolidamento che mi aveva fatto, io sono convinto che ci sia bisogno nel paese ancora di consolidamento, siamo ancora a troppe banche, è anche vero che anche per il consolidamento ci vogliono delle condizioni di base che siano un po' più incoraggianti, quindi abbiamo già parlato della situazione economica che oggettivamente è abbastanza ancora in bilico, di una situazione di stabilità politica che va confermata e anche se vogliamo di una situazione regolamentare, quella è la BCE, che deve chiarire un attimino che tipo di sistema bancario ha in testa e che tipo di requisiti di capitale vuole dalle banche. Quindi solo dopo che saranno chiariti questi punti sarà possibile fare un ulteriore step. Voi avete fatto un grande lavoro sui capital ratio, se avete superato i stress test, cos'è il vostro tier 1? Sì, siamo all'11 e mezzo, ma ripeto dopo aver speso quasi 800 punti di capitale per sanare quei famosi 21 miliardi. Affrontiamo quello che forse per la gente è più difficile capire, cioè le banche vengono criticate, tutte le banche spesso ogni giorno sulle televisioni italiane e la critica maggiore che le banche non fanno abbastanza per le piccole imprese. Come comenta questo? Beh, intanto noi siamo la banca delle piccole e medie imprese, quindi insomma ci fa invece particolarmente piacere che ci sia un'attenzione a questo tema. Dopodiché in generale devo dire che probabilmente non saremmo finiti tutto il sistema bancario con centinaia di miliardi di sofferenze se non avessimo avuto anche in passato un'attenzione forse invece esasperata a poter supportare le PMI che d'altra parte sono il tessuto economico del paese. Quindi non si può fare banca in Italia se non fai banca con le PMI. C'è più del 90% dei nostri affidamenti in termini di numeri, di teste, sono nei confronti di aziende medio-piccole. Ma se non sbaglio, nel 2018 Banco BPM ha aumentato da 2,7% gli impieghi verso i clienti. Si può fare di meglio? Si può fare di meglio però con una crescita molto bassa come quella che c'è stata dire che abbiamo fatto bene. I primi mesi di quest'anno sono incoraggianti. Noi devo dire che siamo anche una proxy un po' particolare perché non rappresentiamo proprio tutto il paese nella sua interezza perché siamo l'80% dei nostri asset, sono più nel nord Italia, dall'Emilia Romagna in su. Quindi evidentemente godiamo anche di un tessuto economico sia da un punto di vista imprenditoriale sia da un punto di vista di ricchezza delle famiglie molto buono. Questo ci consente di fare delle crescite leggermente più alte rispetto a quelle del sistema nazionale. Però forse va detto una cosa che non si dice spesso in pubblico, le banche devono essere cittadini responsabili della società ma non fanno beneficenza, fanno parte del sistema capitalistico. Diciamo che purtroppo questo bisognerebbe chiederlo agli azionisti se sono contenti che le banche facciano beneficenza. Le banche fanno anche un po' di beneficenza con le fondazioni e con altri strumenti. Però nella loro attività, guardi calcoli che nel nostro paese è considerato oggettivamente oggi quello più con problemi da un punto di vista economico rispetto agli altri paesi europei, i tassi applicati alle aziende in Italia sono più bassi di quelli applicati in Germania, che è un paese ricco, un paese con aziende mediamente più sane, con meno ricorso al debito. Questo vorrà dire pur qualcosa, secondo me la risposta è che siamo troppe banche che si fanno una concorrenza spietata, spesso su clienti che magari avrebbero un merito creditizio meno buono. Però parlando di questa banca, il Banco BPM, cosa potrebbe fare o cosa vuole fare lei per aiutare il sostegno dell'economia, delle famiglie e delle imprese? Ma noi intanto, ripeto, già il salto dimensionale mi sembra che sia un segnale molto forte, coltutto è un po' anche di stimolo alle aziende stesse, sappiamo che in Italia la dimensione è un tema, quindi il fatto che banche pur considerate grandi si aggreghino vuol dire che anche le aziende dovrebbero pensare a crescere internamente o esternamente, a darsi dimensioni. E poi ci siamo organizzati in modo tale da poter offrire intorno all'imprenditore tutta una serie di prodotti e servizi che vanno da quelli necessari alla vita ordinaria dell'azienda, quindi i classici finanziamenti a breve termine, a breve termine, l'estero, anche tutta l'attività di investment banking. Noi abbiamo nel nostro gruppo al 100% Banca Acros, che è una banca importante nel paese per quanto riguarda il mercato dei capitali, siamo dopo Banca Imi la banca più presente per quanto riguarda sia il mercato obbligazionario che azionario e possiamo quindi accompagnare le aziende anche nei percorsi di crescita esterni, con IPO, con operazioni di emissioni di bond, con M&A, eccetera. E lo stesso, poi, la stessa cura, cerchiamo di riservare al patrimonio invece delle famiglie con Banca Letty, che è la nostra invece banca private, dedicata al wealth management, e quindi, insomma, circondare un po' tutto quello che è l'attività imprenditoriale da un rifugio, diciamo, sicuro, sia per la crescita che per una sana amministrazione delle proprie risparmette. Due o tre altre domande e avremo finito. Cosa pensi di cryptocurrency, di blockchain? Ma, guardi, ecco, intanto penso che siano due cose abbastanza differenti, pur non essendo un esperto. Cominciamo prima cryptocurrency. Pur non essendo un esperto. Cryptocurrency mi spaventa. Sono abbastanza, insomma, restio a affrontare il tema, perché ne abbiamo avute molte di esperienze di questo tipo, insomma, in passato e ritengo che, insomma, ne abbiamo fatto tanto per arrivare a una valuta unica in Europa e ne abbiamo tante in giro per il mondo. Forse abbiamo meno bisogno di una nuova, soprattutto se non regolamentata, come è stato il rischio nei mesi in cui queste cose hanno avuto molta enfasi. Per quanto riguarda la blockchain, io la considero da un punto di vista, diciamo, di IT, di tecnologia, di informatica e oggettivamente avere una possibilità di tracciare, per esempio per le banche, tutto il sistema dei pagamenti e la strada che fanno le varie fasi del sistema dei pagamenti, è una tecnologia che oggettivamente è utile e importante e io penso che si affermerà. Ma questa banca, per esempio, ha qualche esperimento per payment systems di blockchain? Ma noi chiaramente per tutto il mondo, sistema dei pagamenti, come un po' tutti i sistemi bancari, ci affidiamo molto a degli soggetti esterni in cui chiaramente abbiamo anche delle partecipazioni azionarie, come in questo caso Nexi, ossia che a loro volta poi si fanno carico del mondo dei pagamenti interbancari. Quindi chiaramente lo sviluppo lo facciamo attraverso queste società prodotto molto importanti delle quali oggi si parla molto perché sono potenzialmente in quotazione entrambe. Per quanto riguarda invece la nostra attività interna, diciamo, legata al mondo fintech, che guardiamo con molta attenzione in alcuni settori, soprattutto in un settore che poi si rivolge alle piccole e medie industrie, tutti quegli sviluppi innovativi che è difficile creare all'interno della banca e che spesso ci vengono proposti per fare o delle partnership o delle offerte commerciali comuni o addirittura per entrare in società. Ultima domanda perché è attuale in questo periodo, è giusto far parte di una rete di infrastruttura europea di treni ad alta velocità che lega il resto dell'Europa attraverso Torino e Leone o bisogna stopparlo e uccidere il progetto secondo Giuseppe Castagna? Prendendo come domanda retorica mi pare evidente che sia non solo giusto, ho visto giorni fa una cartina che faceva vedere la rete intermodale dell'alta velocità ferroviaria in Europa e l'unica frattura che esiste è quella fra Torino e Leone. In un mondo interconnesso, in un'Europa unita, non ha nessun senso non esserne parte con le capacità logistiche che poi ci danno le nostre coste, si parla in questi giorni molto anche di questo famoso discorso dei porti aperti alla Cina piuttosto che al resto del mondo. Ma visto che lo solleve, è giusto che l'Italia diventa il primo paese del G7 a far parte della politica? Ma perché no, ci sono tanti oggettivamente accordi che bisogna rispettare, bisogna ricordarsi di far parte di alleanze importanti che hanno tenuto in pace l'Europa e il resto del mondo per molti anni. Però oggettivamente tutti i paesi del mondo fanno accordi bilaterali, purché non si violino quelle che sono appunto delle patti forti che reggono altri accordi, secondo me è giusto incoraggiare questo sviluppo dell'attività. Anche questo specifico accordo che sarà finito. Non lo conosco nel dettaglio, però ritengo che aver fatto una forma di collaborazione con un player così importante come la Cina non possa essere considerata una mossa sbagliata. Qualcosa che vuole aggiungere sull'economia o le banche in Italia? No, voglio aggiungere che spero veramente che anche attraverso dialoghi così piacevoli si possa dare un'immagine alle banche meno aggressiva di quello che viene visto dal dipendente. Cioè non mangiate bambini? Non mangiamo bambini, tentiamo anzi di favorire anche la possibilità di farsi delle famiglie, siamo molto incontro alle giovani famiglie, abbiamo sia per i giovani delle forme anche di finanziamento, per mutui, per chi non ha lavori a tempo indeterminato, ma anche soltanto a tempo determinato. Cioè tentiamo veramente di supportare quella che è la crescita del Paese, dalle famiglie alle aziende. Giuseppe Castagna, grazie per il suo tempo. Grazie mille. Grazie mille.